povera gemma galgani a uomini e donne arriva per lei il secondo gavettone di tina cipollari inutile per molti telespettatori fare i moralisti e creare delle polemiche la dama torinese non si scompone più di anzi quando maria de filippi la invita a stare attenta a un possibile attacco dell'opinionista lei resta comodamente seduta al suo posto senza preoccuparsi troppo e invece tina colpisce ancora e arriva da dietro le quinte con il secchio d'acqua utilizzato poco prima proprio da gemma per sfilare le dame sfilano sulla passerella nel corso della puntata di oggi e la prima ovviamente è la galgani e bene ancora una volta riesce a sorprendere tutti con un look perfetto per l'occasione ma è la scena da lei creata a riscaldare lo studio questa volta gemma si presenta con una camicia a quadri rossa sopra una canottiera bianca e un paio di jeans l'outfit è ideale per creare una delle scene da sempre più sensuali al centro dello studio la dama torinese si esibisce lavando con spugna acqua e sapone i suoi movimenti sono sensuali e i voti da parte dei cavalieri sono altissimi anche gianni sperti esprime un'opinione positiva ammettendo di averla trovata davvero sensuale tina come si poteva immaginare non è di certo d'accordo quest'ultima si infuria e dà vita a una nuova polemica criticando duramente la dama e maria si accorge subito che la cipollari è alla ricerca del secchio d'acqua e sapone usato da gemma per la sfilata pertanto la padrona di casa non può fare altro che mettere in guardia la galgani che resta in attesa di vedere la sua amica ida platanos ed ecco che proprio mentre va in onda il video di presentazione della sfilata arriva tina e rovescia il secchio su gemma e maria urla nu ovviamente la galgani è completamente bagnata e la cipollari scappa via ci ha fregato tutti dichiara gianni la de filippi chiede di portare un accappatoio per gemma in modo che possa coprire la dama però è intenta cercare tina per colpirla con la spugna l'opinionista torna in studio e danno nuovamente vita a un piccolo show